La notte 1223, non si ripete più Francesco, ecco noi andiamo alla ricerca di qualcosa di importante, ecco il Vescovo lascia anche il messaggio proprio di quello che è il presepe di Francesco di Assisi, certamente vorrei dire che la precarietà, ecco credo che la gente di Greccio deve lasciare il borgo e il paese, stare dentro il borgo e la sicurezza. Francesco vuole aiutare la gente a dire che c'è una storia precaria che ha vissuto il figlio di Dio venendo nel mondo e nella precarietà ecco Francesco fa assaporare qualcosa di molto bello non solo al sacerdote ma anche agli abitanti di Greccio, ecco credo se c'è questa cifra da precarietà credo che ci aiuti tutti oggi a vivere in un tempo dove tutti siamo precari. E allora anche in questo senso la vicenda ecco di Greccio ci aiuta, ci aiuta soprattutto mi sembra, poi qui chiudo, che probabilmente gli abitanti di Greccio forse pensavano alle grandi città come il punto di riferimento è andare sempre oltre in un posto più in alto. Ecco Francesco dice che Dio ci raggiunge nel posto più basso di noi e questo è il Vangelo, ecco Dio ci raggiunge dove siamo nelle nostre ferite. Ecco grazie di tutto, ora io vi ringrazio davvero di cuore. Grazie. Grazie. Grazie.